Le scelte fatte Le scelte fatte sulle sospensioni derivano da ritrovare il giusto equilibrio tra il comportamento nell'uso fuoristrale della moto e l'uso stradale. Tuareg per me è stata una bella sfida. Siamo andati a fare una messa a punto molto fine delle sospensioni. Ad esempio abbiamo scelto di usare all'anteriore una forcella completamente regolabile con un cappamola variabile proprio per ricercare il massimo comfort in ogni situazione. Il telaio è realizzato con tubi d'acciaio e con piastre d'alluminio. Questo ci ha consentito di contenere i pesi ma soprattutto di lavorare in maniera molto fine sulle rigidezze. Le rigidezze che sono molto importanti su questo tipo di veicolo impattano molto sulla guida specialmente nel fuoristrale. L'osserbatoio è molto stretto per riuscire a garantire anche a piloti di più bassa statura un ottimale appoggio di piedi a terra. La scelta di montare pneumatici tubeless è dettata dal fatto principalmente che su una moto di questo tipo abbiamo preferito esaltare appunto le doti di guida. Abbiamo scelto di non mettere la camera d'aria per una questione di pesi, di inerzie legate alla ruota con diametri così importanti come quella da 21 pollici e questo aiuta nella guida, nella dinamica della moto, specie nella fase di inserimento e di percorrenza curva. Mi piace associare il concetto di questa moto a un'esplorazione. Mi affascina l'idea di avere una moto comoda che mi permette a 360 gradi di utilizzo e mi permette anche di fare il tratto di strada bianca o perché no il tratto in mezzo ai boschi. Quindi mi piace, mi affascina questo concetto di scoperta. Grazie a tutti.